L'intervento di oggi riguarda la rigenerazione urbana vista dal punto di vista degli alberi, scusate la ripetizione, con alcuni esempi di interventi fatti in diverse parti del mondo dove da una condizione derelitta, una condizione di abbandono totale, addirittura di fortissimo inquinamento si è riusciti a ricostituire e a rigenerare un ambiente che poi è diventato un ambiente in alcuni casi addirittura famoso in tutto il mondo, altri magari a livello più locale, un ambiente non solo fruibile ma che attira migliaia se non milioni di persone da tutte le parti d'Europa per esempio europei o degli Stati Uniti per alcuni esempi europei, poi finiremo anche con esempi derivanti all'Asia centrale in delle condizioni che noi immaginiamo molto povere, molto aree soprattutto, ma dove il verde urbano è visto comunque come un elemento di socializzazione, un elemento che serve a migliorare la vita delle persone in ambiente urbano.